D'arriva bella la canottiera in pigiama per raccogliere fondi e sensibilizzare i cittadini sulle terapie del dolore rivolte ai più piccoli. La sezione lecchese della Rega Italiana per la lotta contro i tumori propone una simpatica camminata benefica per la serata di venerdì 15 settembre. Le cure palliative che noi appoggiamo tantissimo, perché dobbiamo dire che la provincia di Lecco è sempre stata attentissima a queste cose, sono per tutti i bambini che nascono con dei problemi. Per noi è importante, uno, appoggiare, perché ci sono i pediatri della zona che si sono dedicati a queste cose e stanno facendo dei corsi e ci tengo anche a sottolineare che i corsi per le cure palliative sono sostenuti da Soroptimis di Lecco, che è quell'associazione di donne addette alla società, molto attente alla società. Quindi per noi è un problema culturale insegnare alle persone che bambini di questo genere ce ne sono tanti, che la loro vita è lunga comunque, meritano di essere seguiti e che le famiglie hanno bisogno di un sostegno, che non è solo di tipo sanitario ma è anche proprio di sostegno. La passeggiata richiederà la presenza dei bambini, la provincia di Lecco ha deciso di non far pagare l'iscrizione per i bambini piccoli e abbiamo chiesto anche agli animali, se qualcuno ha il cane che è particolarmente attento, visto che gli animali hanno questa attenzione e questa vicinanza a chi ha bisogno e quindi la passeggiata è con tutti. L'obiettivo è di essere vestiti in pigiama o di avere qualcosa che possa richiamarlo, perché il pigiama è il tipico abbigliamento che questi bambini indossano durante questa loro degenza. Poi, bambini, non è che ci verrà sparato chi lo indosserà, basterà anche la papalina, però serve per creare folklore, per creare simpatia e per soprattutto attirare l'attenzione su questo grande evento che per la prima volta riusciamo a portare nella città di Lecco. Volevo particolarmente chiedere alla popolazione di Lecco, a tutti i suoi abitanti, di non passare inosservati, cioè di aderire. Abbiamo bisogno della vostra adesione per completare il nostro sogno, il nostro messaggio. Grazie mille.